Il loro primo giro, anche per i loro sette giri sul percorso più lungo della Maggiura Off-Road Arena per i car cross che danno vita. Delineando un po' le posizioni, ricordiamo che ci sono sette giri previsti, quindi comunque ci sarà una bella maglia ancora da sostenere per voi. E con questa coppa io ieri l'ho vista, anche durante le prove dei car cross, legati al Camerano Italiano. E' tanto Niederhauser ancora a comando, però è da segnalare il miglior tempo di Baumgartner. E' tanto Niederhauser per i car cross, legati al Camerano Italiano. Fasso, Fasso, Schulling, Baumgartner, non può andare a seguire. E' tanto Niederhauser per i car cross, legati al Camerano Italiano. Sì, è stato un po' di gara, ma ha comprato un 4.10 circa, di chi ha recuperato qualcosina nei confronti del leader della gara, quindi è ancora piuttosto aperta questa prova di gara. Sì, è stato un po' di gara, quindi è stato un po' di gara. Sì, è stato un po' di gara, quindi è stato un po' di gara. Sì, 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 è stato un po' di gara.